Garossi, Papinger, Elli, Alessio Ferello, Polizia di Palma, Asia di Prodesto che non prende il via, Raizia, Damoni, Angela Pimenti, Lino Urewe, Amigo Niccoli, Raya, Lissandrone, Angela Beccano. Grazie a tutti, grazie a tutti. 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 passaggio eliminazioni singole, una sola eliminazione, una sola eliminazione, 844, 844, adesso la pagaregna, abbiamo già detto che questa è già una filazione totalmente così lunga nelle prime tasi, che sono estremamente spettacolari poi quando entrano nel video, adesso non so. Ma vogliono parlare il più meglio prima. Daniela! Il colpo è fuori asleta! Calca di eliminazione, non c'è eliminazione qui! Non c'è eliminazione! Vai, il Natale! Caduta la di Natale! Il colpo è un colpo che ha capito il piatto di riuscirare! Mi saltano altre due eliminazioni dietro della caduta! Non c'è eliminazione su questo passaggio! Non c'è eliminazione! Non c'è eliminazione qui! Non eliminazione! Non c'è eliminazione! Federica di Natale se la può fare anche il prossimo giro non ci sarà eliminazione! Quindi devo dare tutto! La festa del centro poliziativo domani la settimana! Nazionale dopo tanto tempo ha formato il maglia azzurra l'anno scorso! Non c'è il 1989! E' tutta la specialità! Non ci sarà eliminazione nemmeno in questo passaggio! Non c'è eliminazione! Non c'è eliminazione! Non c'è eliminazione! È tornata sotto! Grazie a tutti. E' l'eliminazione singola, eliminazione di 1921, eliminazione di 1921. 824, Niccoli, 824, grazie a Nese. E' l'eliminazione singola, eliminazione di 1921. E' l'eliminazione singola, eliminazione di 1921. 271, Zanoni, eliminato il passaggio presente. 271, Zanoni, fermarsi, grazie. 281, Zanoni, intanto arrivano, siamo già... 55, Martina Zanini, grazie, grazie Martina. E' l'eliminazione singola, adesso ripesta con il giorno nuovo di là. Laura Pena, è l'eliminazione del passaggio molto tempo. Siamo già all'eliminazione di 1929. 1928, è l'eliminazione di 1929. 849, 849. Bene, è l'eliminazione di 1929. Bernadetta. L'eliminazione, quando qua il ritmo fosse masso di questa gara, è un'eliminazione di 1927. Non è giù, ho forsato 20 giro, e abbiamo, dobbiamo tenere l'acqua sulla coda dell'italia. Il rischio. 758, Roberta Saliata. la fede di luna ullawey l'ho avuto l'ho avuto l'indarossi l'ho avuto il titolo italiano quando però siamo già praticamente in prossimità del rettilineo di arrivo occhio sulla spesa del gioco ed eliminazione eliminazione in corso eliminazione 852 852 grazie Mattino la fede di luna ullawey la fede di luna ullawey la fede di luna ullawey 495 495 495 e se la ora che sono in davanti con Luisa ullawey in seconda posizione forse l'ho avuta in terza sono un po' troppo lontano stiamo intanto già pronti per la prossima eliminazione 98 98 98 sogna bianchi brava comunque la fede di luna ullawey avesse la natura ha letteralmente rallentata da quanta sei secondi al dio sono passati quelle precedenti a 38-1 vediamo voi possiamo arrivare una riscontra Siamo pronti all'eliminazione. 244, la ricca di Natale, ha dato giusto per recuperare dopo la caduta. Atleta della Nazionale. Vediamo, eh, adesso sono rimaste le migliori, ogni eliminazione da qui in avanti. Questa è un'eliminazione di meno 12 euro. L'eliminazione di meno 12 euro. 730, sopra il giro Angela Piperto, che possono uscire non illustri, come è normale, in grado di questo tipo, in cui lo resteranno solamente in tre, in cui quasi la volata c'era loro, i pregrediti nel podio. E' un'eliminazione di meno 11 euro. E' lì, in un'eliminazione. 816, 816, 12, 15. Intanto il primo precedente è tornato su, 15, 15, 15. Prossima eliminazione a meno 9, prossima eliminazione a meno 9, quindi non ci sarà eliminazione in questo giro, ma il prossimo. Prossima eliminazione a meno 9. Prossima eliminazione a meno 9, prossima eliminazione a meno 9. Prossima eliminazione a meno 9. per il ritiro di un atleta fatta una eliminazione la prossima eliminazione a meno 8 la prossima eliminazione a meno 8 non per eliminazione in questo perguardo per il ritiro di un atleta sapete che si scaltasse la prima eliminazione per cui la prossima sarà a meno 8 adesso inizia la prima eliminazione al passaggio in palco a meno 8 ha finito questo giro quindi meno 8 voglio dire eliminazione al passaggio eliminazione in questo eliminazione 268 De Palma 268 De Palma grazie Lucrezia adesso eliminazione anche a meno 7 andiamo avanti così andiamo avanti così e l'emozione e l'emozione a passaggio l'eliminazione 751 Giulia Giulia Gorsini 751 grazie Giulia e adesso si è saltato davanti e adesso c'è una accelerazione dall'esterno è tutta un un bel allungo Elena lo spesso vuole stare attaccata con le unge con i denti vediamo il passaggio l'eliminazione di meno 6 eliminazione di meno 6 851 851 Elena lo spesso 851 grazie Elena attenzione è una caduta è una caduta in fondo all'ortilino opposto a quello di arrivo quindi non c'è eliminazione di meno non c'è eliminazione salta questa eliminazione cazzo l'ho avventato Rossi Hulaway Valanzano nelle mie posizioni eliminazione di meno 4 siamo a meno 4 quindi eliminazione 1 passaggio da Paola è un spesso eliminazione 857 di sagatti buongiorno per lei scoppiato anche Paezioni Pornhill Pronto? Siamo di fare riscosa l'ho in stato rossi nelle prime posizioni Poi c'è anche Laura Seda e lui c'è Irene Panamelli Vediamo eliminazione Eliminazione E' stanna tu, stanna E' stanna Ma non ci piace 286 Laura Pegari Brava comunque Brava comunque Laura Pegari Irene Panamelli Adesso è leggermente staccata C'è per recuperare Al passaggio Mancheranno Due giri Quindi in ultima eliminazione Lo ha perso è Brava Irene E' un applauso per noi intanto 81 E' un applauso per noi Bravissima Quinto posto assoluto Al passaggio Campana Ultima eliminazione Campana con l'ultimo Dior Ultima eliminazione Da Polite Lotto per il podio Infine E' un applauso per il podio E' un applauso per il podio Adesso è arrivato Lotto per il mito Noi è arrivato Ma è arrivato Ma è arrivato Noi è arrivato l'unità lina sweet not